Avete mai desiderato di possedere un superpotere in grado di svelarvi i segreti della vostra mente? Un potere che vi permetta di conoscere i vostri punti di forza, le vostre debolezze, il vostro potenziale intellettivo più profondo. Ebbene, questo esiste davvero ed è conosciuto come il test Stanford Binet. Sviluppato agli inizi del XX secolo, il test Stanford Binet è uno strumento di valutazione psicologica in grado di scandagliare le diverse sfaccettature della vostra intelligenza, offrendo molto di più di un semplice punteggio complessivo. Attraverso una serie di attività e di domande progettate per valutare il ragionamento verbale, astratto, visivo, quantitativo e la memoria a breve termine, questo test vi aiuterà a conoscere voi stessi come mai prima d'ora. Che siate bambini, adolescenti o adulti, il test Stanford Binet può rivelarsi uno strumento prezioso per identificare potenziali talenti, rilevare eventuali problemi nello sviluppo cognitivo o semplicemente comprendere meglio le vostre capacità mentali. Ciao, se non mi conosci, io sono Jacopo, uno studente appassionato di psicologia desideroso di raccontare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinati di questa disciplina. Prima di iniziare però ti ricordo di iscriverti al canale così da non perdere le prossime uscite. Gli origini di questi affascinanti test risalgono agli inizi del XX secolo, quando lo psicologo francese Alfred Binet fu incaricato di sviluppare un metodo per identificare gli studenti che potevano incontrare difficoltà nell'apprendimento. Insieme al suo collega Simon, Binet creò la Scala Metrica dell'Intelligenza, uno dei primi test di intelligenza al mondo. Successivamente lo psicologo statunitense Therman prese in esame il lavoro di Binet e Simon, rivisitando e adattando il test per l'utilizzo negli Stati Uniti. Nacque così il test Stanford-Binet, che ha subito numerose revisioni e aggiornamenti nel corso degli anni, l'ultima delle quali risale al 2003. Questo strumento di valutazione psicologica è stato progettato per misurare l'intelligenza generale di un individuo, offrendo molto di più di un semplice punteggio complessivo. Il test infatti valuta in modo approfondito diverse aree delle abilità cognitive, come il ragionamento verbale, il ragionamento astratto e visivo, il ragionamento quantitativo e la memoria a breve termine. Grazie alla sua versatilità, il test Stanford-Binet può essere somministrato a individui di diverse fasce d'età, da bambini molto piccoli fino agli adulti. È uno strumento ampiamente utilizzato in contesti clinici, educativi e professionali, fornendo informazioni preziose per psicologi, insegnanti e datori di lavoro. Ma cosa misura di preciso? Vediamolo insieme nel prossimo capitolo. Quando viene somministrato, il test Stanford-Binet si concentra su quattro principali ambiti, ciascuno dei quali offre una finestra sul funzionamento della vostra mente. Il primo di questi è il ragionamento verbale, che valuta la vostra capacità di comprendere e utilizzare il linguaggio in modo efficace. Questa area include abilità come il vocabolario, la conoscenza generale, la comprensione verbale e il ragionamento logico. Il test esplora anche il vostro ragionamento astratto e visivo, ovvero la capacità di analizzare e risolvere problemi utilizzando informazioni visive e concettuali. Attraverso attività come individuare sequenze, classificare oggetti e risolvere enigmi spaziali, il test riesce a capire la vostra abilità di pensiero creativo e di risoluzione dei problemi. Un'altra area cruciale è il ragionamento quantitativo, che valuta le vostre competenze matematiche e numeriche. Qui sarete chiamati a eseguire calcoli, risolvere problemi aritmetici e comprendere concetti quantitativi mettendo in luce le vostre doti di agilità mentale con i numeri. Infine, il test Enforbiné indaga anche la vostra memoria a breve termine, ovvero la capacità di mantenere e manipolare informazioni nella vostra memoria di lavoro per un breve periodo di tempo. Questa abilità è chiaramente fondamentale per una miriade di attività cognitive quotidiane. Ma quindi questo test dove viene utilizzato? Uno degli ambiti principali in cui il test Enforbiné viene impiegato è quello dei bambini. Già a partire da due anni di età, questo strumento può essere utilizzato per identificare eventuali ritardi nello sviluppo cognitivo o al contrario per riconoscere potenziali talenti eccezionali. Gli insegnanti e gli psicologi possono servirsi dei risultati del test per comprendere meglio le capacità e le esigenze dei loro giovani studenti, adattando così le strategie didattiche in modo più efficace. Ma il test Enforbiné non è rivolto solo ai bambini. Infatti può essere somministrato anche agli adulti, trovando impiego in ambiti clinici come la valutazione di disturbi dello sviluppo intellettivo o disabilità cognitivi, nonché in contesti professionali per l'inserimento lavorativo o per la valutazione delle competenze. Attenzione però, il test non deve essere considerato un'analisi definitiva della vostra intelligenza. I risultati devono essere interpretati da professionisti qualificati, tenendo conto di numerosi fattori come il contesto culturale, le opportunità educative e lo stato emotivo di ciascun individuo. Tuttavia, questa valutazione dettagliata può fornire informazioni preziosi per il vostro percorso di crescita e autorealizzazione. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete mai preso parte a questo test e quali sono stati i vostri risultati. La struttura di questo test è stata progettata per valutare le diverse sfaccettature della vostra mente, suddividendola in una serie di sottoscale o sezioni, ognuna delle quali esplorano una specifica area di abilità. Per i bambini più piccoli, il test Stanford Binet include attività pratiche e manipolative, come impilare degli anelli su un'asta o riconoscere forme e colori. Questo permette di valutare le loro capacità cognitive in un modo adatto al loro livello di sviluppo. Man mano che l'età aumenta, però, le prove diventano più astratte e verbali. Qui il test inizia a indagare il vostro ragionamento logico, la conoscenza generale e la comprensione del linguaggio. È quasi come se volesse scavare più a fondo per capire i segreti del vostro intelletto. Questa suddivisione in sottoscale permette di individuare con precisione i vostri punti di forza e di debolezza, offrendo un quadro completo delle vostre competenze cognitive. Alla fine di questo esame, i risultati vengono tradotti in un punteggio numerico chiamato quoziente intellettivo. Ma attenzione, questo non è un valore assoluto, vence un indicatore delle vostre capacità cognitive relative a un gruppo di riferimento della stessa età. Il test Stanford Binet è uno strumento prezioso per la valutazione dell'intelligenza, ma come ogni valutazione psicologica, presenta sia aspetti positivi che limitazioni da considerare attentamente. Uno dei principali punti di forza del test è senza dubbio la sua versatilità. Grazie alla sua ampia fascia d'età di applicazione, dai due anni fino all'età adulta, il test può fornire informazioni preziose sulle capacità cognitive di individui in diverse fasi della vita. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile sia in ambiente clinico che in quello educativo. Inoltre, la sua natura multifattoriale, ovvero la capacità di valutare diverse aree dell'intelligenza, offre una visione particolareggiata delle abilità cognitive di ciascun individuo. Questo permette di identificare con precisione punti di forza e di debolezza, informazioni cruciali per psicologi ed educatori. Tuttavia, questo test non è esente da critiche. Infatti, alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo a potenziali bias culturali presenti in alcune domande o attività del test, che potrebbero quindi svantaggiare individui provenienti da contesti socioculturali diversi. Questa è senza dubbio una limitazione da tenere in considerazione nell'interpretazione dei risultati. Un'altra critica mossa al test riguarda il fatto che esso tende a enfatizzare abilità accademiche legate al successo scolastico, trascurando forse altre forme di intelligenza come quella motiva o pratica. Questo aspetto restrittivo comporta una visione parziale delle reali capacità cognitive di una persona. È importante sottolineare che il test Enforbiné non dovrebbe mai essere utilizzato come unico strumento diagnostico, ma piuttosto come parte di una valutazione più ampia che include anche altre misure, osservazioni comportamentali, emozionali e contestuali. L'interpretazione dei risultati richiede inoltre l'esperienza dei professionisti qualificati nel campo della psicologia e della valutazione cognitiva. Nonostante le critiche, però, questo test rimane uno degli strumenti più diffusi e rispettati per la valutazione dell'intelligenza. Se sei interessato ad approfondire ulteriormente il tema della valutazione dell'intelligenza, ti consiglio di guardare anche questo video sulle scale Wexler, un altro strumento di valutazione cognitiva ampiamente diffuso. Avrai così l'opportunità di confrontare diverse prospettive e approcci in questo affascinante campo di studio. Grazie per aver visto il video fino alla fine e io ti aspetto a un prossimo video. Ciao!